ciao ragazze buongiorno buon sabato a tutte oggi inizia il weekend non si lavora in laboratorio ma si continua a lavorare con i video infatti ho appena postato due video di spiegazione uno ieri sera in realtà uno parla dell'applicazione del gel acrilico per un allungamento senza supporti quindi senza tip e knife form e l'altro che ho postato pochissimo fa parla di una correzione del difetto naturale questi video con spiegazione li trovate sempre sul mio profilo instagram micol trattino basso passanisi dove io diciamo svolgo più un'attività di vlog quotidiano quindi posso nelle storie proprio l'attività che svolgo durante la giornata in salone e anche delle spiegazioni tecniche che magari sfuggono durante i tutorial invece sul posto nel presente finché li eseguo mi vengono più facili da spiegare diciamo e poi anche sul canale youtube condivido questo formato di video perché è più indicato per quel tipo di canale quindi seguitemi su il canale di youtube le unghie di micol e sul profilo instagram sia le unghie di micol sia micol trattino basso passanisi vi aspetto anche là un abbraccio buona giornata